Le partecipazioni a Pesaro per Vivi Città 2018, oltre 500 adesioni per la corsa che si svolge in simultanea in Italia e all'estero. L'evento riunisce atleti professionisti e sportivi della domenica senza dimenticare i bambini. Tutti a correre nello stesso momento in 42 città d'Italia e 12 estere, da Sarajevo alla giapponese Yokohama. Partenza di rigore alle 9.30 del mattino per un evento all'insegna della solidarietà. Un euro per ogni partecipante a sostegno del progetto per i rifugiati siriani della ONLUS Ter Des Homme, con l'obiettivo di trasmettere l'importanza dell'attività sportiva in un'atmosfera di festa. È il bello della corsa più grande del mondo, ovvero la madre delle corse in simultanea, Vivi Città. Interessati anche quattro istituti penitenziari dello stivale per l'edizione numero 35 dell'evento che porta la firma dell'UISP nazionale, l'Unione Italiana Sport per Tutti. Nelle Marche coinvolta Pesaro, dove le persone si sono ritrovate già dalle 8 in Piazzale Europa, Baia Flaminia. Dopo 19 anni a Dorbino si è corso per le strade pesaresi, oltre alla competitiva di 12 chilometri, con un percorso che ha toccato la panoramica fino al faro, strada Altarello, Bocca del Lupo, via Lucio Accio, via Canale, anche una camminata ludico-motoria per le vie del centro storico e la gara di bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni di età. Grazie a tutti.